Grande soddisfazione per Martina, convocata in nazionale, questa è la seconda convocazione. Martina, è chiaro che tu vieni dalla cantera di Bagnara Calabra, hai iniziato a bagnare queste esperienze e adesso c'è grande soddisfazione non solo per Bagnara ma anche per l'intera provincia regina. Sì, è davvero una grande emozione essere convocata in nazionale, comunque l'aspirazione di ogni calcettista alla fine. Io vengo da questi campi, quindi non dimentico mai da dove ho iniziato e devo tanto comunque anche all'Olimpia Sporting Bagnara che comunque mi ha aiutato nella mia crescita e alle varie squadre in cui comunque sono stata. Certo è sempre una grande emozione e spero che sia la seconda di una lunga serie. Diciamo che sei all'inizio della tua carriera, lo possiamo dire questo, sì? Sì, quello sì, comunque ho ancora 24 anni quindi alla fine di strada lunga ancora da fare ce n'è. Poi con il ruolo che faccio comunque, che è quello del portiere, diciamo che ho ancora più anni da poter giocare. Coltiva la tua passione, ti piace tanto giocare quindi unisci la passione, a un certo punto diventa pure un lavoro. Sì, sì, comunque ci alleniamo quasi ogni giorno con doppie sedute, quindi per noi è un impegno diciamo fisso durante tutta la settimana. Quindi oltre alla passione c'è anche comunque diciamo anche un aspetto lavorativo, però alla fine c'è tanta tanta passione al primo posto. Pianta stabile nazionale ormai? Eh, diciamo dai, siamo solo all'inizio, questo è l'inizio, spero come ho detto prima sia veramente il proseguio di tante altre convocazioni. Io ce la metterò tutta con il lavoro, l'umiltà, il sacrificio che comunque mi hanno sempre accompagnato in questi anni e spero comunque di togliermi tante altre soddisfazioni. E poi c'è questa vicenda di Sissi, tu hai giocato con lei, noi abbiamo fatto uno speciale qualche giorno fa a Taurianova e abbiamo un po' parlato di questa ragazza, di questa sua vicenda perché la famiglia, ma tutta Taurianova, non vuole che si dimentichi questa ragazza che attualmente è ancora in coma a Mestre. Sì, sì, io ho avuto la fortuna diciamo di giocare con Sissi, di conoscerla, di sapere che persona, che ragazza è, diciamo che è un po' un mistero quello che è successo a lei. Sì, speriamo che comunque la speranza di tutti è che Sissi si possa risvegliare perché lei è comunque un tipo combattivo, un tipo alla fine è una persona responsabile, una persona forte, speriamo veramente che si possa risvegliare e che venga a galla la verità.